L'attore turco Jeanne Yaman torna di nuovo in Italia. Infatti è tornato in Italia per registrare una nuova puntata di C'è posta per te del 2023. Dovrà fare una sorpresa speciale ad una farmacista nello studio di C'è posta per te. Nel pomeriggio del 26 novembre c'è stata la registrazione di una delle nuove puntate del People Show con un tasso di ascolti sempre elevatissimo. E' condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda da gennaio e sarà trasmesso nel prime time dei canali 5. Ma prima di entrare nel vivo di questo argomento ti ringraziamo per aver scelto di vedere questo video e ti ricordiamo di iscriverti a questo canale ma di attivare anche tutte le notifiche tramite la campanellina mettendo un like ed un commento sotto a questo video. Tra gli ospiti di questa edizione è certo che ci sarà anche l'amatissimo ottore turco che si trova a Budapest per registrare le puntate di El Turco e reduce dal grande successo ottenuto in questa stagione autunnale con la fiction Viola come il mare. Nel dettaglio Jeanne Yaman è rientrato in Italia per registrare una puntata di C'è posta per te 2023. Sabato 26 novembre l'attore turco è arrivato a Roma per partecipare alla trasmissione campione di ascolti del sabato sera di Canale 5 e che porta la firma di Maria De Filippi. Per Jeanne non si tratta della prima ospitata al programma di Maria De Filippi dato che nel corso di questi ultimi anni ha avuto molte volte piacere di prendere parte al People Show di Mediaset. L'arrivo di Jeanne presso gli studi Elios dove vengono registrate le puntate di C'è posta per te come al solito ha creato un po' di scombussolamento. Infatti Jeanne è stato immortalato da tantissimi fan sui loro social durante il pomeriggio che lo hanno atteso con grande gioia. Ma chi è stato il destinatario di questa sorpresa speciale che vedeva come protagonista Jeanne Yaman a C'è posta per te 2023? Stando a quando si apprende da Blasting News il divo turco ha regalato un sorriso a una mamma di cinque figli farmacista e moglie di un uomo disabile. Una sorpresa particolarmente emozionante è quella che Jeanne ha voluto fare a questa donna che malgrado le mille difficoltà della vita troverebbe un po' di sollievo alleggerendo per un attimo le sue preoccupazioni e seguendo l'attore turco e le sue fiction in televisione. Ma per poter vedere questa ospitata dovremo aspettare il prossimo anno. La trasmissione di Maria De Filippi ricomincerà a andare in onda a partire da sabato 7 gennaio su Canale 5 ma non ci è dato ancora sapere a quale puntata Jeanne Yaman sarà l'ospite che ormai ha conquistato il pubblico italiano. Intanto tutti i suoi fan attendono con interesse e cresce l'attesa per la seconda stagione di Viola come il mare. Dopo il buon successo di ascolti a Mediaset ha scelto di puntare anche su questa serie e ha confermato così la seconda serie di Viola come il mare la quale troverà spazio con nuove puntate inedite nel corso della stagione televisiva 2023-2024 e così dovrebbe tornare a formarsi la coppia composta da Sean Yaman e Francesca Achillemi che quest'autunno ha conquistato il pubblico Mediaset nei panni di Francesco Demir e Viola Vitale sempre che i due riescano a trovare una nuova intesa visto come hanno chiuso i loro rapporti in modo repentino. Riusciranno a blizzare il successo con la seconda stagione? Al pubblico di Canale 5 spetterà l'ardua sentenza finale. E tu che ne pensi? Lavoreranno ancora insieme o no? Ma prima di lasciarci ricordati di iscriverti al canale e lasciarci un tuo like. Al prossimo video.